Oh, forza! Le donne, però... Perché era l'oltre? Sì, domenica. Ma l'oltre? Mi ha detto... Mi ha detto... Due cibo per il pane... E' me? Cinque per il pane? Non è stato... Ma che quattro vegliate? La sera mi ha detto... Ma non è una cosa... Ma non è una cosa... Vai Viso, vai Viso, io l'ho deciso! Dai Viso, vai! Purtalo! Andate di resta solo! Bravo! Bravo! No! 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 Eh, questo è quello skilletare! Chi Ven nota! Eh, lei, ha». No, noi... No! Vai Stavo il crise europeo! Angolo! Grazie! Grazie a tutti. 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 , a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.